Sono Luca, responsabile qui allo stand Slam al Salone Nautico di Genova. Il salone sta andando molto bene, siamo contenti delle nostre performance. Presentiamo parte della collezione invernale che vedete qui dietro con nuovi prodotti come questa giacca che stiamo distribuendo ora nei nostri negozi, due strati con le cuciture in gel antiacqua, un tessuto all'interno termoregolatore quindi si regola con il calore corporeo. È una giacca realizzata in due strati con un tessuto all'interno termoregolatore quindi mantiene il calore corporeo e poi lo sprigiona al momento giusto. All'interno troviamo una taschina e la cosa carina è che ha il puliscio occhiali incorporato e dall'altra parte il porta iPhone. Se no presentiamo anche vari softshell che noi chiamiamo lo strato intermedio quindi da inserire tra la giacca e magari un maglioncino, una camicia sempre con un gusto sportivo ma sempre con un occhio alla nautica. Sono Luca Pedrotti della Lizard, calzature Lizard, Lizard è un marchio italiano con produzione ancora in Italia e appunto siamo specializzati nelle calzature per outdoor e nautica. In questo salone presentiamo in particolare uno stivale tanautica che è questo, impermeabile, traspirante, superfressibile che grazie alla caratteristica di morbidezza e alla lacciatura interna nascosta calza come una scarpa. Un'altra grossa novità è questa calza, si chiama Shield, è una sovracalza impermeabile e traspirante, va messa appunto sopra le calze all'interno della scarpa, è un'ottima alternativa allo stivale per appunto quando piove, quando fa freddo, è molto traspirante quindi a differenza delle classiche calze neoprene che fanno sudare il piede questa è molto più confortevole. Un altro prodotto molto interessante è la scarpa regatta che è questa appunto rossa che ha una tomaia in rete e microfibra quindi molto morbida, molto confortevole e una suola Vibram che grazie alla combinazione della mescola particolare e al disegno ha un ottimo grip su tutti i tipi di pontile della barca. Grazie a tutti!